La Fondazione Sicana ha organizzato per giovedì 28 luglio un incontro per presentare alla stampa l'evento Calici di Stelle, dedicato all'enoturismo in Sicilia. L'incontro è fissato nella sede di Caltanissetta della Fondazione, in Via Crispi. Alle 11 il benvenuto ai giornalisti, mezz'ora dopo inizierà la conferenza stampa e alle 12.30 è prevista la visita del palazzo delle ex poste centrali di Via Crispi, dove assede la Fondazione Sicana. Il programma degli eventi proseguirà alle 13.30 con una degustazione di vini e cibi tipici, mentre alle 15 andrà in scena lo spettacolo per bacco di Sandro Dieli.